Un problema nel problema, anzi sempre più spesso un dramma nel dramma, è quello dei minori immigrati o profughi che giungono soli nel nostro paese. Un migliaio in questo momento nelle strutture convenzionate con il comune di Milano. Si tratta di bambini, ragazzi, adolescenti, con enormi problemi di integrazione nella società, a rischio per la salute più degli adulti, fragili tra i fragili, che spesso sono vittime di violenze e ingiustizie inimmaginabili. Una volta erano di passaggio, ma adesso sempre più spesso vorrebbero fermarsi qui ed è necessario per la loro stessa sopravvivenza. La questione è stata analizzata in sala Nessi di Palazzo Marino in un incontro dal titolo, già di per sé significativo, oltre l'emergenza, al quale hanno preso parte ben 12 organizzazioni e associazioni che operano con il comune di Milano. Noi abbiamo una lunga esperienza con i migranti, con i rifugiati soprattutto in genere, ma i minori per noi è stato un tema nuovo che siamo riusciti ad affrontare grazie a questo progetto. Come sempre ci poniamo un po' nell'ottica Caritas di lavorare oltre l'emergenza. L'emergenza non è neanche più tale perché sta diventando strutturale, quindi dobbiamo dare degli strumenti in modo che questi problemi si riescano ad affrontare nella quotidianità e nell'integrazione, come è sempre lo spirito di Caritas per qualsiasi problematica. Il Consorzio Parsi Prossimo, concretamente come sta agendo? In questo caso il Consorzio nel progetto Emergenze Sostenibili è parte dell'ATS, appunto con Consorzio SIS e altri soggetti importanti del terzo settore di Milano e di questa coprogettazione col Comune di Milano. E seppure sono tante le iniziative e i progetti virtuosi che fanno ben sperare le realtà già poste in essere, il grido di allarme è sempre lo stesso, anche perché non si può più parlare di emergenza, ma di vero e proprio problema strutturale. Noi come Casa Carità vi hanno detto deistituzionalizziamo l'emergenza, cioè siamo nella normalità, bisogna affrontarla con una grande intensità, proprio per dare anche serenità, sicurezza sociale e prospettive di futuro e nella linea della solidarietà, non dell'assistenzialismo. Una delle realtà è Casa Amicizia. Sì, Casa Amicizia appunto nasce dalla collaborazione fra Farsi Prossimo e Fondazione Casa del Giovane che appunto ha avuto origine da questa occasione del progetto Emergenze Sostenibili.